Bene amici del Bipati Tech Channel, siamo qui quest'oggi per recensire questo prodotto della TR-Link, ovvero degli auricolari USB tipo C con microfono integrato. Ho scelto in particolare auricolari tipo C e quindi non wireless perché sono stufo di avere cose da ricaricare, da ricordarmi di caricare, magari sono in treno, si scarica la cuffia Bluetooth, devo prendere il powerbank e caricare la cuffia Bluetooth, intanto usare il cellulare che magari si è scaricato anche quello, insomma non volevo avere una cosa in più ancora da dover ricaricare e quindi sono andato per un modello appunto con cavo e in un primo momento mi sono diciamo convinto di queste cuffie TR-Link che adesso vi farò vedere subito. Spostiamo un attimo il nuovo modello, infatti questo sarà un confronto tra il nuovo e il vecchio modello. Come voi vedete trovate all'interno la sua custodietta che io non ho mai usato e vedrete per ovvi motivi anche il perché non l'ho mai usata. trovate una serie di adattatori in era per i vari padiglioni auricolari, anche questi molto comodi. Trovate la bustina in cui vi erano appunto le cuffie perché le cuffie sono qui. Le cuffie sono queste, io le ho usate ormai da un anno sbattendole veramente ovunque nello zaino per terra, trascinandole, tirandole eccetera e devo dire che quindi dopo un anno, adesso ve le faccio vedere meglio, qui vedete appunto il marchio e l'USB della TR Link. Ma cosa succede che dopo un anno, ovviamente per come le ho maltrattate io, si è andato a creare questo fenomeno, ovvero una delle cuffie è uscita appunto dalla sua sede e si è andata a sganciare dai due cavi che la collegavano. Me lo aspettavo dato che comunque queste cuffie hanno un prezzo modico, una modica cifra, veramente le ho maltrattate e trattate male per questo test fatto anche per voi. Qui in particolare trovavamo il comando per rispondere alle chiamate, alzare, abbassare il volume, passare da una traccia a quella successiva eccetera. Ma passiamo ora invece al nuovo modello che è proprio quello che voglio mostrarvi oggi. Ho scelto sempre uno stesso modello TP Link perché stavolta è sempre un po' difficile da aprire questa scatola. Qui invece abbiamo le cuffie ancora impacchettate ma le ho reimpacchettate io proprio per farvi vedere un unboxing un po' più ufficiale. Abbiamo sempre all'interno gli adattatori per i padiglioni auricolari in ear e abbiamo qui invece in questa busta le cuffie. Sono andato a risceglierle perché il design è diciamo cambiato quasi completamente. Infatti come voi vedete il filo è un filo piatto, non vi è più il filo tondo delle altre volte. vi è sempre ovviamente l'USB tipo C TR Link che a me è comodissima perché infatti utilizzando sia MacBook, MacBook Pro che Android è comodissima. Posso passare da uno all'altro senza nessun tipo di problema e quindi ascoltare la mia musica sia su MacBook Pro che su Android senza alcun tipo di adattatore o di altro amminicolo strano. Quindi veramente questa compatibilità MacBook Pro con Android è veramente fantastica. Quindi cavo piatto vi dicevo e il motivo per cui sono andato a scegliere è che questa volta l'attaccatura, voi vedete che c'è scritto R ed L, in questo caso l'attaccatura deve essere plastificata direttamente in fabbrica quindi dovrebbero essere molto più resistenti a questo tipo di trazione che io ora sto esercitando sia da una parte che dall'altra. Dovrebbero quindi essere molto più resistenti da questo punto di vista. Inoltre cambia anche quello che qui vi faccio vedere, diciamo il pulsante. Infatti con questo pulsante è possibile mettere in play o in pausa una traccia, rispondere a una chiamata, rifiutare una chiamata, passare alla traccia successiva e passare anche una traccia precedente. Non vi è invece il controllo del volume. Questo è una cosa importante da ricordare. Comunque appunto fa anche da microfono quindi potete fare tranquillamente tutte le vostre video call e videoconversazioni. Per darvi alcuni piccoli dati tecnici queste cuffie processano l'audio in segnale digitale ad alta risoluzione con un output di 96 kHz e 24 bit mentre un segnale analogico con 384 kHz e 24 bit. Quindi questo per darvi appunto qualche dritta insomma anche sulla qualità. Sono cuffie di ottima qualità, si sente bene, vanno bene per ascoltare film, per ascoltare musica, per ascoltare registrazioni eccetera. Ovvio non aspettatevi l'alta fedeltà da cuffie che costano ben di più dei 18,99€ che sono andato a pagare per questo articolo. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete domande non esitate a farle qua sotto nei commenti, iscrivetevi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e magari condividetelo anche con i vostri amici interessati all'argomento. Ovvero l'acquisto di queste cuffie molto economiche su Amazon e con il tipo C compatibili con diversi dispositivi e senza bisogno della costante ricarica se ci dimentica a fine giornata quindi rimanendo senza audio. Quindi io direi che per questo video è tutto. Un saluto a tutti dal Bibatti Tech Channel. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!